Siamo a domenica ragazzi, direttamente da Zombieland A cazzo me lo farà, non metto a ducco Meglio della Steadicam, ciao E' il prossimo? Io Destro-silistro Perfetto L'occhio Allinea questo punto Con questo E il terzo punto che allinei E' l'obiettivo Ok, se questo fosse il mio obiettivo E' stare davanti a questo Davanti a questo Ok, proviamo 1 Ok, provo ancora Ok, anche il terzo Bene, bene, andiamo Allora Qui a destra Due colpi ora Ok Ok Da adesso hai Un colpo A disposizione Per ogni giorno Ok Ok Il difficile Da qua Il biondo E' carcerato Ti puoi anche abbassare, eh Gilocchiare Ottimo Ottimo E' indiscutto Di due gemelli Ok Vai Via 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 Ottimo Ora è un ultimo colpo Cambiamo In alto A sinistra Viola Da qua Il pallino Si passa attraverso Quindi Basta che la mia esista Ottimo Sietto perfetto Dai Vai Marcatore Occhio Pazza Qui a sinistra Qui c'è vigna Vigna Qui c'è vigna Qui c'è vigna Qui c'è vigna C'è una serra Prendete Già venate gli zaini voi Si Si Maggio piano piano Lo senti con calma E guarda dietro gli angoli Porca madonna Buona fortuna Grazie Oh zio Pagano Ti amo Ma che Pagano 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 Allora Non ci viene ai occhi Non ci corre Che famo Pagano Lasciate Se potete Pagano 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 Mira basta Il tuo pesco Dove Tu cazzo Aspetta Non mi Non posso Mirare l'olio Vai 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 Ma che è? L'è morta dopo che ho sparato Pagano Pagano Porco dio Ce n'è un'altra in carriza Mi hai caricato? No Pagano In nose Pagano Pagano ありがとうございます Pagano Logo Pagano Sì, dopo mi fai di prendere l'avanzinello. Senti le due vite, io ne ho uno. Sì, fai. Sì, fai. Sì, fai. Non ho più colpi, Angelo. Come non hai più colpi? Non ho più colpi. Vai davanti. Dammi la tua cosa allora. Vai davanti, c'è un colpo. Non ho più colpi. Non ho più colpi. Non ho più colpi. Ma che pezzo di merda, lui aveva due vite e mi ha fatto andare a me dietro. Eh, ci credo, me l'ha fatto io. Ah, sei morto anche te? Eh, infame, non ho più colpi, vai davanti. In teoria ragazzi, ci sarebbe stato un altro gioco che ho fatto a Lucca, soltanto che non ci hanno permesso di registrarlo e quindi non ho potuto metterlo nel video. Mi dispiace veramente perché era veramente, veramente bello e si chiamava Escape Room e praticamente consisteva nel uscire da questa stanza nel cui te eri rimasto bloccato a causa di un determinato evento. Nel nostro caso noi avevamo vinto un monte premi, dovevamo andare a ritirarli dentro questo magazzino. Alla fine si è rivelato che non era così e c'era un'altra missione. Praticamente te devi risolvere degli enigmi matematici o logici che essi siano ed uscire dalla stanza. E noi ci abbiamo fatto per un minuto di tempo e quindi siamo arrivati anche noi lì agli sgoccioli. È stato veramente fantastico. Bene, questi sono i giochi che ho effettuato a Lucca. Spero che il video vi sia piaciuto e in caso positivo lasciate un like e iscrivetevi al canale. Da notte è tutto, ci si vede alla prossima. Ciao!